Buongiorno a tutti, oggi parleremo della psicologia della Gestalt. Nasce in Germania all'inizio del XX secolo e può essere tradotto come psicologia della forma. Questo ramo della psicologia studia i meccanismi di apprendimento e la percezione, intesa come processo cognitivo che elabora le sensazioni provenienti dagli organi di senso. Il principio fondamentale della Gestalt è che il tutto è superiore alla somma delle singole parti. Cosa significa? Che ciò che noi percepiamo non è semplicemente la somma dei singoli elementi, ma è proprio una sintesi della realtà. Basta pensare ad una melodia. Quando noi ascoltiamo la melodia non percepiamo le singole note, ma tutto l'insieme. Percepiamo cioè la totalità. I principali esponenti della Gestalt sono Wertheimer e i due assistenti, Cooler e Kofka. Wertheimer elabora le leggi della Gestalt, leggi inerenti quindi alla percezione della forma. Queste leggi sono la legge della vicinanza, quindi gli elementi del campo percettivo, vengono uniti in forma con tanta maggiore coesione quanto minore la distanza tra loro. Infatti se guardiamo l'immagine, nella lettera A noi individueremo subito un quadrato, nella lettera B e nella lettera C invece andremo a individuare le colonne. Nella B le colonne verticali e nella C la colonna orizzontale. Somiglianza in un'immagine in cui ci sono molti elementi, questi vengono raggruppati tra loro se sono simili per colore, forma o dimensione. Infatti se guardate l'immagine, ci viene subito da suddividere la parte di sinistra dove ci sono delle linee verticali e da quella a destra dove troviamo questi pallini bianchi e neri. E tra l'altro ci viene anche spontaneo dividere i pallini bianchi da quelli neri. Poi la legge della continuità, una serie di elementi posti uno di seguito all'altro vengono uniti in forma in base alla loro continuità di direzione. Se guardiamo queste due linee, noi subito abbiamo quell'idea di continuità tra loro, ma in realtà questi potrebbero essere anche semplicemente quattro segmenti uno vicino all'altro. Poi la legge del destino comune, gli oggetti che si muovono insieme vengono percepiti come un'unità e possiamo vedere anche qui l'immagine, in entrambi i casi sia nell'immagine di sinistra che nell'immagine di destra noi guardiamo il complesso, l'unità complessiva, non andiamo ad individuare i singoli elementi. Poi c'è la legge della figura a sfondo, nel percepire un campo visivo alcuni oggetti assumono un ruolo di primo piano mentre altri passano in secondo piano. Il campo visivo viene così suddiviso in due parti, ma non è possibile osservare sia la figura e lo sfondo nello stesso tempo. Infatti se ne guardiamo quest'immagine a primo impatto vedremo il calice in nero e poi come sfondo ci sono le immagini di questi due volti. però se la guardiamo nel complesso non riusciamo a distinguere le due cose quindi c'è sempre un'immagine che va a primeggiare rispetto all'altra. Poi la legge della chiusura. Una figura si percepisce chiusa anche se le linee non sono continue. Infatti se noi guardiamo l'immagine del quadrato e del cerchio vedete anche se mancano delle parti noi comunque riusciamo ad individuare facilmente sia il quadrato che il cerchio. Poi la legge dell'esperienza passata. Elementi che per la nostra esperienza passata sono abitualmente associati tra di loro tendono a essere uniti in forma. Se guardate l'immagine subito individuerete una lettera E questo perché noi conosciamo questa lettera e una persona invece che non conosce il nostro alfabeto magari vede semplicemente delle linee. Poi infine la legge della pregnanza. Il nostro cervello riconosce le forme più semplici possibili. Ecco, di fronte all'immagine del rombo e del quadrato noi andiamo a individuare subito singolarmente le singole figure geometriche non andiamo ad incorporare il tutto in una nuova figura semplicemente distinguiamo il quadrato dal rombo. Verstheimer è anche ricordato per l'introduzione di due concetti fondamentali quelli di pensiero riproduttivo e produttivo. Nell'ottica del problem solving, quindi della risoluzione di un problema il pensiero riproduttivo viene utilizzato nel momento in cui noi risolviamo un problema applicando dei metodi che già conosciamo o che già abbiamo utilizzato ad esempio in altri contesti. Invece il pensiero produttivo serve per risolvere i problemi utilizzando l'intuito. E proprio a proposito di intuito ci possiamo riagganciare a cooler. Secondo lo psicologo tedesco, l'intuizione, definita anche insight, è un'illuminazione improvvisa che consente di risolvere il problema. Per arrivare a questa definizione, lui ha condotto degli esperimenti con degli scimpanzè a Tenerife. In cosa consistevano questi esperimenti? Uno dei tanti riguardava lo scimpanzè chiuso all'interno di una gabbia dove c'era appesa una banana. Nella gabbia erano presenti delle cassette. Quindi inizialmente lo scimpanzè voleva raggiungere questa banana ma non ci riusciva, quindi tentava senza ottenere risultati. Poi ragionando ha avuto l'intuizione, ossia ha messo una sopra l'altra le cassette ed è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Kafka introduce la sua analisi partendo da una domanda perché le cose ci appaiono come appaiono. Per rispondere a questa domanda fa una distinzione tra due tipi di ambienti, l'ambiente geografico e l'ambiente comportamentale. L'ambiente geografico, quello tipico di cui hanno parlato i comportamentisti, c'è l'ambiente visto così da un punto di vista oggettivo che dà degli stimoli al soggetto e il soggetto risponde. E poi c'è l'ambiente comportamentale dove invece le risposte dipendono dalla rappresentazione soggettiva che l'individuo ha dell'ambiente in cui si trova. E questa è una visione proprio tipica della Gestalt.